Vi presentiamo l'orchestra moderna dell'Associazione Amici della Musica, diretta dal maestro Angelo Inglese. Apro il concerto il Cosa Seggio di Vincenzo Valente, composta nel 1857 e senza dubbio l'opera più popolare e più bella della copiosa produzione del Valente, meritamente considerato il fondatore della marcia funebre morfettese. Umile e sensibile, profondamente buono, il Valente, più e meglio d'ogni altro, seppe avvicinarsi e attingere all'animo morfettese più genuino, risultandone il più felice interprete. Il Cosa Seggio ne è la tipica testimonianza, per esserne la più sentita e la più popolare. Divena melodica facile, padrone di una tecnica contrapuntistica e strumentistica eccellenti, l'autore in quest'opera riesce magistralmente ad esprimere il dramma della Passione di Cristo con accenti di carica emotiva veramente stupendi. Il dolore, il pianto, lo strazio, l'agonia, la morte sono evidenziati in un gioco di semitoni e di accordi dissonantici di rara efficacia. Per questo la si esegue all'uscita del Cristo morto. Per questo il morfettese l'ama e la predilige come la sua maccia che canticchia di questi giorni ovunque si trovi, per terra, nel cielo o sul mare. la sua maccia interesse. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti